Oggi un piatto ligure, l'imbrogliata di carciofi. Servono pochi e semplici ingredienti, uova, carciofi, latte e parmigiano. Iniziamo con la pulizia dei carciofi. Togliamo le foglie più dure, le tagliamo a metà e togliamo anche le barbe interne. Poi ne facciamo delle piccole fettine da mettere a bagno in acqua acidulata. Li facciamo ammorbidire in una padella con olio extravergine di oliva. Nel frattempo sbattiamo le uova con il latte, il parmigiano, sale e pepe. Quando i carciofi sono morbidi aggiungiamo le nostre uova. E adesso imbrogliamo con il cucchiaio per far rapprendere un po' le uova. Facile e buonissima!